dai signore dai si fermi dai non facciamo nulla dai allora se mi dici che non stava facendo nulla prendetelo prendetelo in braccio eh no 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 aspetta 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 che no va mai come hai visto tu metti giù metti giù metti giù su le mani oh che è quella fitta oh valla roca valla a chi è lei non sballo avanti la faccia signore e oppa 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 oppa